Ma l'arresto di Matteo Messina Denaro è veramente una vittoria dello Stato? Arrestare un uomo dopo ben 30 anni, in un momento tra l'altro così fragile per quest'uomo e tra l'altro in una clinica privata, è davvero un segno di gloria? Ma certo, è ovvio, da un lato sì, ma dall'altro lasciatemi dire che ho il percepito di un po' di situazioni grigie, lasciatemelo dire. L'augurio che ci dobbiamo porre oggi è che lo stesso Matteo Messina Denaro collabori ovviamente con le autorità. Sicuramente c'è da fare luce su delle stragi, su dei omicidi, ma anche su una latitanza durata 30 anni e di chi lo ha aiutato. Conoscere tutto questo significherebbe dare verità e giustizia per noi tutti e per chi ne ha subite le conseguenze.